Il sogno del prego della droga è fatta per togliere giustizia. L'intervista al campione. Oggi è stata una giornata fantastica. E' una cosa tecnologica. Ultimitacistica. La mia tecnologica è successa. Non si intervista, non gli occhi. Ok, alla fine, quanti punti ha fatto lei, signore? 27. 27, per? Per le... Per le... Meno 2. Aspetta che ti faccio un po' lo zoom sulla faccia panoramica. Ma che è brutto!